mo bella a tutti ragazzi sono BlackDragosuff e benvenuti in questo nuovissimo video qua sul mio canale ragazzi siamo insieme ad Ayub Francesca chi ne più ne ha chi ne metta e oggi siamo con questo video per fare creativa insieme a Francesca e Ayub no Franci comunque facciamo creative ok ragazzi come vedete mi sono scioppato Renegade ragazzi e vi ricordo se volete essere salutati da me dovete iscrivervi al canale e mettere un like a questo video in questo caso Degettoboy Ayub grazie per l'iscrizione al canale per aver messo like al mio primo video e così anche al Daniel anche a lui grazie mille per l'iscrizione al canale e per il like Francesca metti pronto se no ti bastono e vabbè e anche al Thomas grazie Thomas per l'iscrizione e per il like e vi ricordo e vi ricordo se volete essere salutati se volete essere salutati iscrivetevi al canale e mettete subito un bel like sotto questo video ok adesso come vedete c'è il ballo Renegade oggi nello shop quello che io mi sono sciuppato infatti andiamo a parlare ma sai che puoi parlare questa qua è sottofondo bici posso parlare eh si la Francesca la Ayub è morto oh c'è ancora non è vero non è vero ci sono ci sono ah ok 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 allora la Francesca gioca da playstation e Ayub gioca da mobile mobile no io non gioco da playstation mi dico non sa neanche saltare la Ayub io gioco da itsbots ah itsbots ecco è arrivata la itsbots guarda qua no aspetta Facciamo 10 round in box fight Poi chiudo il video ragazzi E facciamo un altro video Farò subito dopo un altro video In creative Cioè buonanotte in creative Faremo una duo Chi è che hai avviato? Chi è che hai avviato? Brava Vuoi un applauso? No Ok Ma la iube Ah ok c'è la iube Ma perché? Oh ragazzi avete notato? Che figo ragazzi guardate hanno cambiato i tasti Adesso quando li fate sono neri Troppo figo Ma perché i ubo giochi da mobile? Aspettate non mi sparate Non mi sparate Ma scusami Sono un bravo bambino Aspettate devo cambiarmi le impostazioni Non so perché Ah ma è vero io Che può essere che tu lo aspetta? Aspettate un attimo Ok ci sono Eh no eh no eh no Aspetta Francesco Aspetta aspetta aspettate Aspettate tutti Non sparare ai uub Ok Sono io Ma che rendi con? Finiti No vabbè Francesco mi uccide Grazie Ok ci sono Eh vabbè Vabbè Francesco Bene game 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 Io voglio quel ballo Ok ragazzi il primo round è finito 1 0 0 per me E adesso inizia il secondo round Vediamo come andrà Ho detto renegade Se no non è giusto Abbiamo capito Francesco Voi renegade Basta dire Oh io la voglio Dai io la voglio Abbiamo capito La vuoi Cioppati insomma Non ho finta che sei vincuio E tu me lo scoppi Eh Si è arrivata la figlia di Berlusconi Oddio Oh mamma 110 No Mi sono bustati come un cane Oddio Oh mio Se ti fai battere da mobile proprio Edo Sei fuori gioco Eh Si Bonco è arrivata la figlia di Conte Ci manca Ci manca Ehm Salvini Ma Salvini Sarai anche lì tu Aiuto non mi ho 86 Che spalmona Spalmona Mamma mia Una drogata come i troiani Ma cosa ne so Fornit c'entra con la storia E infatti non c'entra niente Dai No E' andata a farsi Cavolo Quelle lì sono Sono le racchette Che ti sbatterò in testa Dopo questo video Vabbè ragazzi Secondo round è finito Uno Ma chi è questo qua Perché Entra gente Ciao 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 Allora tu Ora lo rinvito Ti dico scusa No No Francesca C'è scappa Bene La fine del video Lo faccio Ok No dopo che abbiamo fatto anche la video Ma Francesca ma Ma cosa vuoi fare? Ma addio Ma non benvenuto Ti do il benvenuto Neanche Dai dov'è l'aiuto Poverino Bambino Che è morto No Edoardo ti prego Ma la Francesca è abbandonata No Ma la Francesca è abbandonato Veramente Che si Franci ci sei? No Non c'è No Aspetta Eh si lo so Però non parla Aspetta L'ha invito nel gruppo Ragazzi guardate qua Posto segreto Si può uscire dalla mappa Ok si è unita Però mi sa che dobbiamo tornare alla lobby Edo perché sei andata fuori da mappa? Ok Franci ci sei? No Franci sei tu che è abbandonato Non so Ma perché Perché mio amico mi ha invitato Ah Non entrare più Francesca Mi hai fatto provare Non lo spavendo Dabba lo l'invito Ma lo ringrazierò Se cerco Niente Anche questo round Ragazzi è finito E siamo al quinto round Di 10 Cioè in realtà sono 100 round Però non lo facciamo fino a 10 Oh ragazzi però Pusciamo subito Senza camperare Perché se no Il video dura un po' troppo Oddio Fatto E poi non riesco a pubblicarlo Fatto 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 Sono io la più forte qui Tutti lo fanno Ma volevi tu eh Ma sono un'espa-mono marronna Sono sempre stata spammosa Se ne accorgi ora Ma vabbè Puoi anche togliere il microfono Dalla gola Eh ascolta Se ho bitto da te così Non lo so perché Non è che siamo sordi eh Sordi Anzi Ci fai diventare sordi Sì 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 È arrivata La figlia di Jumanji E tu sei il figlio di Berlusconi Grazie Sono figlio di Berlusconi Sono figlio di Berlusconi Comando Sì Sei qua Bracce 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 Ma che ci conviene Ostra Francesca oggi È detta la spammona italiana Ma dai Aiuto Addio Mamma mia Avevo una tipica Bene game Bene game Bene game Ma non me ne frega Niente Quattro due Però Ricordatevi di seguire il mio tiktok Sì sì Bannatela Bannatela Dovete scrivere Sono una femmina Con una N Perché ho sbagliato C'è il mio gatto No mamma C'è il viso che mangia La copertura Della Dello xilopero Mamma mia Ma Ma ciao C'è aiuto Spam ancora un po' Do mobile Do mobile Dai ma dai mobile Mi ha ammazzato Dai Ma sembra Lazio Sembrava Lazio Sembra Sembra Lazio contro Napoli Ok Francesca contro il Napoli Io smistifo la Juventus Mamma mia Ma lo sai che è drogata A me frega Anche se Cristiano non ha Ma come Ma vuoi diventare un troiano No 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 Contra Ayub Ayub Eh Il mondo giro Una volta a te E mai a me Oh Guarda che si dice Eh Ayub E' un detto che ti sei inquietato Ma Cento Cento Si si scottati il sederino Io ti scotto qualcos'altro A tutta ti scotto Non ho capito Non l'ho capita Ragazzi siamo al nono round Ma infatti non devi capirla Perché non era una battuta Allora cosa era Oh Oh pa Oh pa Oh pa Grazie Stacca il muro No Ok spamona Spamona Perfetto Spamona Spamona Ok Vai E morta la spamona Festeggiamo Festeggiamo Ayub Fai bravo bambino Vieni qua che facciamo teaming Ayub non mi sparare Teaming vuol dire amici Amici per sempre Ayub Ayub amici per sempre Amici per sempre Ayub 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 amici per sempre Ciao E aiuta faccio quello che voglio Deve regalare ad Ayubo quel ballo Siccome Non speller è un nemico Lascialo in pace Ciao Oh ma se il video è noi tre E' inutile che sto bambino entra Dopo lo posso invitare almeno da questo figlio Dopo che abbiamo fatto i due video Finiamo Arriviamo Questo qua ragazzi è il decimo round Attenzione C'era francesco che Facciamo Da quelli Tante In seconda Mamma mia francesca quanto ti detesto Quanto ti detesto Quelli che vengono da dietro Dimmi Ma puscialo Devo curare Aspetta 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 Ah ah Non balli quello che ho io Ecco il ballo rispetto a Edo Sì sì Rispettati da sola Che è meglio Io se no guarda Scoppiare la guerra E niente è finito così E bene ragazzi Spero che questo video vi sia piaciuto Se vi è piaciuto Mettete un like Iscrivetevi al canale E noi ci vediamo In un prossimo video Ciao raga